Buongiorno a tutti, allora e benvenuti al Tardellazio. Inauguriamo, cioè inauguro, perché a me spetta il saluto introduttivo, questo corso che vi vedrà impegnati un giorno e mezzo, che rappresenta uno straordinario momento di joint venture tra giustizia ordinaria e giustizia amministrativa, che vede come proscenità del Tardellazio. Io mi trovo qua quasi in una sorta di celebrante di questo straordinario e non usuale connubio tra i due sistemi più importanti di tutela giurisdizionale del nostro ordinamento giuridico. Nello stesso tempo diamo atto pure di una straordinaria collaborazione tra la Scuola Superiore della Magistratura e l'Ufficio Studi della Giustizia Amministrativa. Questo corso poi vedrà due momenti clou, uno nell'ambito della mattinata con la presenza dei due presidenti aggiunti di Cassazione e Consiglio di Stato e poi l'altro domani a metà mattinata, che rappresenterà il culmine di tutto, con la presenza dei presidenti, dei due vertici dei due sistemi di giustizia, Cassazione e Consiglio di Stato, Canzio e Paino. Continua il dialogo tra le giurisdizioni nell'ambito del sistema di tutela giurisdizionale, che è un sistema unico nel nostro ordinamento giuridico e chiaramente è suddiviso al suo interno in alcuni sottosistemi, di cui poi due importanti sono il riparto tra giudice ordinario e giudice amministrativo. Qui è chiaro che da parte dei due appartenenti ai due sistemi ci sono diversi approcci e diverse forme mentali di approccio ai problemi inerenti alla giurisdizione, però è giusto che questi due sistemi si incontrino tra di loro e non si scontrino come alcune volte invece è capitato in passato. In tutto questo poi c'è il ruolo svolto dalle sezioni unite della Cassazione e dalla donanza plenaria del Consiglio di Stato perché rappresentano poi la nomofilachia per i due sistemi giurisdizionali e soprattutto poi le sezioni unite della Cassazione anche per la nomofilachia per quanto riguarda la giurisdizione. Da quando io studio Besopilibio all'università mi interesso di giurisdizione, ormai sono 40 anni perché le porto purtroppo i capelli bianchi in testa, in cui ci interessiamo di questi problemi inerenti alla giurisdizione, la quale rappresenta l'ABC del giudice perché la prima cosa che va verificata è naturalmente la giurisdizione, cioè se la controversa è portata al proprio esame rientro meno nell'ambito devoluto al potere giurisdizionale al quale si appartiene. È chiaro che in tutto questo ci sono problemi di tipo sostanziale e problemi di tipo processuale che poi saranno tutti approfonditamente affrontati in questo corso naturalmente su tutto si staglia la differenza tra le posizioni giuridiche soggettive di interesse legittimo e di diritto soggettivo che costituiscono il petitum sostanziale in base al quale va ripartito il sistema giurisdizionale tra giudice ordinario e giudice amministrativo. In un convegno del 2006 a Messina dove fece una relazione sul danno ambientale e sulla sfera di competenza giurisdizionale della materia ripartita tra giudice ordinario e giudice amministrativo a seconda delle posizioni giuridiche soggettive, il professore Perlingieri che faceva le conclusioni di quel convegno dopo che mi aveva sentito parlare di interesse legittimo e di diritti soggettivi disse ma che esiste ancora l'interesse legittimo ma siamo ancora a perdere tempo sull'interesse legittimo. Si dà il caso però che l'interesse legittimo è nominato nella Costituzione, articoli 24, 103 e 113 della Costituzione laddove la tutela giurisdizionale delle posizioni giuridiche soggettive è ripartita tra giudice ordinario e giudice amministrativo in base alle posizioni giuridiche soggettive, diritto soggettivo, interesse legittimo e in particolari materie attribuite alla competenza, alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, il giudice amministrativo conosce anche delle situazioni di diritto soggettivo oltre a quelle di interesse legittimo quindi questo interesse legittimo continua ad esistere solo perché e soprattutto perché è menzionato nella Costituzione. Devo qui evidenziare l'eccezionale ricchezza di questo programma oggetto di questo corso, cito soltanto alcuni per gli argomenti perché mi sembrano per quelli più rappresentativi, articolo 37 CPC, legittimazione ad impugnare per motivi inerenti alla giurisdizione e questioni processuali, diritti soggettivi anche fondamentali, esercizio del potere e meri comportamenti della pubblica amministrazione, tutela risarcitoria nei confronti della pubblica amministrazione, risarcimento danni conseguenti a procedure di esproprio, risarcimento danni di affidamento incolpevole, giurisdizione esclusiva per il giudice amministrativo in particolare a parti pubbliche, aggiudicazione e sorte del contratto, responsabilità contrattuale, fase di esecuzione contrattuale, giurisdizione nell'impiego pubblico, eccesso di potere giurisdizionale anche con riguardo al diritto europeo, c'è tutto e di più, ma forse un tema importante manca e allora mi rivolgo in particolare all'amico Storto e agli altri appartenenti all'ufficio studi perché potrebbe essere un tema di enorme importanza, di interesse dei due sistemi giurisdizionali ad affrontare in un prossimo incontro ed è quello della giustizia sportiva, cioè di quelli che sono i provvedimenti emessi dalle federazioni e dagli organi della giustizia sportiva, l'autonomia dell'ordinamento sportivo nazionale, i suoi rapporti con l'ordinamento giuridico nazionale e quelli che sono i poteri attribuiti al giudice ordinario in parte e in particolare al giudice amministrativo per quanto riguarda la giurisdizione esclusiva che poi fa parte di una delle specifiche lettere elencate nell'articolo che elenca le controversie attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e soprattutto quali sono i limiti entro i quali e oltre i quali può andare il giudice amministrativo con riguardo alla chiusura dei procedimenti innanzi alla giustizia sportiva. Questo è un tema di una certa importanza perché ha visto impegnato questo TAR soprattutto in questi ultimi tempi con una serie di decisioni di una notevole importanza perché credo che sia un tema che sia meritevole di approfondimento. Giurisdizione. Tant'acqua è passata sopra i ponti. Noi abbiamo una situazione attuale che è in parte cristallizzata nel codice per il processo amministrativo e poi nel CPC il quale è la risultanza di una stratificazione, di una successione di pronunce giurisdizionali, di normative che si sono succedute, di sentenze della Corte Costituzionale. Io cito soltanto perché per chi è più in età, come me se lo ricorda, due sentenze della Cassazione degli anni 90, una in particolare il caso Mededil Cassazione Sezione Unite 12.221 del 1990 e l'altro il caso Besiena Parcheggi del 1995 Cassazione Sezione Unite numero 4.989 che hanno dato adito a quintali di convegni e di scritti laddove la giurisdizione del giudice amministrativo veniva ad essere individuata sulla base della esistenza o meno di una concessione per quanto riguarda gli atti indetti in una procedura per dividenza pubblica da un soggetto privato concessionario, il caso Besiena Mededil, o da un soggetto privato non concessionario, una società ammissa, il caso Besiena Parcheggi, laddove la Cassazione individuò la figura dell'organo indiretto per della pubblica amministrazione nel caso di concessione e quindi individuò l'esistenza di atti formalmente non amministrativi ma sostanzialmente amministrativi che si dovevano impugnare innanzi al giudice amministrativo. A differenza invece della stessa procedura per dividenza pubblica bandita da una società mista, non concessionaria, sulla base delle norme europee che imponevano per dividenza pubblica laddove gli stessi provvedimenti dovevano essere impugnati innanzi al giudice ordinario perché non c'era una concessione. Quindi fenomeni analoghi trattati in maniera diversa, cioè qualcosa che era sostanzialmente uguale doveva essere sindacato da due giudici diversi. Ho già detto che poi il codice sul processo amministrativo rappresenta un momento per di arrivo perché nello stesso troviamo tutta la stratificazione precedente per quanto riguarda i problemi attinenti alla giurisdizione a livello legislativo e a livello giurisprudenziale. Ricordo anche che molte delle soluzioni, cioè molte delle decisioni delle sezioni unite della Cassazione in tema di giurisdizione hanno avuto anche alla base una soluzione per il tipo pratico. Io ricordo solo, eppure queste sono cose abbastanza lontane, la distinzione tra carenza di potere in concreto e carenza di potere in astratto laddove la Cassazione le sezioni unite individuarono in alcuni casi di cosiddette illegittimità forte, cioè decreto pedesproprio emanato al di là di quelli che erano i termini entro i quali si dovevano chiudere le procedure oppure decreto pedesproprio emesso in mancanza di una dichiarazione di pubblica utilità laddove la Cassazione individuò ipotesi di nullità con la possibilità di adire direttamente il giudice ordinario per chiedere il risarcimento del danno. Ma questo perché veniva creato tutto questo? Per venire incontro agli interessati perché all'epoca c'era il sistema del doppio binario, cioè bisognava per poter ottenere il risarcimento del danno andare innanzi al giudice amministrativo per ottenere l'annullamento dell'atto amministrativo, quindi l'accertamento di legittimità dell'esercizio del potere e poi soltanto successivamente andare innanzi al giudice ordinario per ottenere il risarcimento del danno. Quindi quella giurisprudenza che finalità aveva? Aveva quella di di eliminare un primo binario e di poter adire in via immediato un secondo binario, cioè andare direttamente innanzi al giudice ordinario per ottenere il risarcimento del danno. Quindi sostanzialmente poi alla base di una decisione o di una soluzione ci dovrebbero essere sempre problemi di tipo pratico, tipo questo. Diciamo che per tornare ancora al codice sul processo amministrativo, lo stesso in materia ha non solo risolto alcune delle questioni inerenti a problemi attinenti alla giurisdizione che avevano visto contrapposte le sezioni unite della Cassazione e la donanza penaria del Consiglio di Stato, soprattutto parlo della pregiudiziale amministrativa perché ha avuto una soluzione mediana nel codice sul processo amministrativo, ha rappresentato il recepimento delle conclusioni della giurisprudenza in molte questioni inerenti alla giurisdizione, ha riordinato e riassettato il sistema normativo a riguardo. Qual è stata l'evoluzione più in breve in materia, senza partire dal 1865, senza partire ai quasi 180 anni di storia del Consiglio di Stato? Ricordo solo gli articoli 33, 34 e 35 del decreto legislativo 80 del 1998, la legge 205 del 2000, la sentenza delle sezioni unite della Cassazione numero 500 del 1999 perché è riconosciuta come la prima pronuncia in tema di riconoscimento della risarcibilità degli interessi legittimi, mentre invece non è così perché la risarcibilità degli interessi legittimi era stata già ampiamente riconosciuta precedentemente dalle sezioni unite della Cassazione per quanto riguarda gli interessi legittimi di tipo oppositivo, camuffandoli nelle vesti dei diritti cosiddetti affievoliti o dei diritti cosiddetti condizionati, mentre invece la vera novità di quella sentenza è stata il riconoscimento della tutela risarcitoria per quanto riguarda gli interessi legittimi di tipo pretensivo, fino a quel momento naturalmente negata, ma qui siamo in una fase di continua stratificazione e di continui cambiamenti perché la società B si evolve perché all'ordinamento giuridico arriva dopo e quindi il giudice arriva prima e cerca di adeguare quella che è la situazione normativa non adeguata alla situazione della realtà B che si evolve di continuo. Pensare che fino agli anni 70 non era riconosciuto il risarcimento del danno per lesione di diritti soggettivi per di credito soltanto nel 1970 con il famoso caso Mironi, la Cassazione, riconobbe il risarcimento del danno anche alle posizioni di diritto soggettivo per di credito. Ricordo ancora poi, credo che ne parlerete, ampiamente in questi giorni delle sentenze della Corte Costituzionale numero 204 del 2004, cioè la ragione di essere della giurisdizione esclusiva per il giudice amministrativo e il superamento della tesi del risarcimento del danno come diritto soggettivo. La Corte Costituzionale numero 191 del 2006, la giurisdizione esclusiva sui comportamenti della pubblica amministrazione presuppone che gli stessi siano sempre collegati all'esercizio del potere. Corte Costituzionale numero 140 del 2007, la tutela dei diritti costituzionalmente protetti non è riservata esclusivamente al giudice ordinario, quindi è possibile la degradazione anche per quanto riguarda i diritti fondamentali e quindi l'esercizio del potere anche in quel caso deve essere sindacato per il giudice amministrativo con tutte le conseguenze anche di tipo risarcitorio. Ricordo sempre a chi non è ancora tanto giovane tutte le controverse che a un certo punto si ebbero alla famosa cura di Bella, per cui a un certo punto si pronunciava puntare e a un certo punto si pronunciava un giudice ordinario. insomma, ma perché per la stessa questione c'è accesso alle cure di Bella, autorizzazione sanitaria, alcune volte si pronuncia il Tari, alcune volte si pronuncia il giudice ordinario e perché lì c'era la tesi dei diritti fondamentali, diritto alla salute che erano indegradabili da parte del potere e quindi bisognava andare innanzi al giudice ordinario. Invece qualcuno riteneva che essendo andando a contestare atti amministrativi che incidono sul diritto alla salute bisogna andare innanzi al giudice ordinario. Anche questo poi ha avuto una soluzione successiva. Diciamo che nello stesso tempo questo corso affrontando tutti i problemi nella materia e la giurisdizione è allo stesso tempo punto di arrivo e ripartenza perché credo che farete ampiamente riflessione su quello che è lo stato dell'arte nella materia e su quelle che sono belle evoluzioni, su quelle che sono belle prospettive, ma soprattutto su quelle che sono le criticità. e a riguardo, giusto qualche osservazione e poi concludo, innanzitutto qui non è tanto sicura la natura della responsabilità della pubblica amministrazione, ho visto che ne parlerete ampiamente successivamente. Si va innanzi a una natura di tipo diversificato, extracontrattuale, precontrattuale, precontrattuale a seconda delle situazioni. C'è anche la tesi della cosiddetta responsabilità da contatto sociale qualificato che equipara la responsabilità dell'amministrazione ad una responsabilità di tipo contrattuale nell'ipotesi di violazione delle regole del procedimento amministrativo. Qui sorvolo perché poi lo affronterete più che approfonditamente successivamente. Danni da affidamento incolpevole sulla legittimità dell'atto amministrativo. Ho visto perché parlerete anche di questo. Qui c'è una giurisprudenza abbastanza ferma della Cassazione dal 2011. mi sembra abbastanza univoca, la quale dice che nel caso di danni arrecati da provvedimento amministrativo e conseguenti all'affidamento incolpevole del destinatario dell'atto amministrativo sulla legittimità dell'atto stesso, i danni devono essere chiesti al giudice ordinario. Perché? Siamo in presenza di un diritto soggettivo all'integrità patrimoniale con conseguente giurisdizione del giudice ordinario. Non siamo in presenza di interessi legittimi. Però qui a chi ne parlerà rimando un approfondimento sulla problematica perché anche qui secondo me noi stiamo andando incontro alla trattazione di due fenomeni analoghi in maniera del tutto opposta con devoluzione a due giudici diversi. Perché anche qui anche il danno conseguente all'affidamento incolpevole sulla legittimità di un atto amministrativo, ricordiamo perché l'ipotesi consegue sempre all'accertamento della illegittimità di quel provvedimento stesso. da parte del giudice amministrativo che l'ha annullato perché si parla di destinatario di permesso di costruire oppure si parla di soggetto aggiudicatario di una gara. Oppure colui il quale si è visto autoannullare dall'amministrazione il provvedimento dello stesso tipo che ha ricevuto perché il legittimo e quel provvedimento di autotutela non è più contestabile perché o non viene ad essere impugnato oppure in seguito alla sua impugnazione il ricorso e il respinto per il giudice amministrativo. Quindi qui siamo sempre nell'ambito di danni conseguenti all'esercizio del potere danni conseguenti all'esercizio del potere in un campo, attenzione bene, che è quello del permesso di costruire oppure quello della giudicazione che è un campo in cui siamo in materie attribuite alla giurisdizione esclusiva per il giudice amministrativo laddove il giudice amministrativo conosce non solo delle posizioni di interesse legittimo ma anche di quelle di diritto soggettivo. Quindi parlare di interesse legittimo o di diritto soggettivo in una materia simile non ci interessa minimamente perché allora quando noi siamo in presenza di materie attribuite della giurisdizione esclusiva per il giudice amministrativo quello che si deve andare a verificare per individuare il giudice competente amministrativo oppure ordinario non sono più le situazioni giuridiche soggettive ma è la materia, cioè la materia che fa da confine ai due giudici e non più la posizione giuridica soggettiva. La posizione giuridica soggettiva in queste ipotesi ci interessa soltanto ai fini della individuazione del termine entro cui proporre azione, cioè termine di decadenza se è interesse legittimo, termine di prescrizione se è diritto soggettivo. Ultimo punto e concludo, vedo che anche qui c'è una relazione, l'eccesso di potere giurisdizionale. L'eccesso di potere giurisdizionale, ho visto in questi ultimi tempi, è abbastanza cioè la giurisprudenza delle istituzioni unite e la gassazione incominciano a porre un po' di paletti restrittivi sulla individuazione dell'eccesso di potere giurisdizionale. A un certo punto però l'eccesso di potere giurisdizionale è stato abbastanza allargato o allargandosi conseguentemente la possibilità di sindacare innanzi alla cassazione le sentenze del Consiglio di Stato perché ricordo ai sensi dell'articolo 111, ultimo della Costituzione sono ricorribili in cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione e la giurisdizione, l'andiamo sempre a ripetere perché sembra che non sia mai chiaro, viene ad essere individuata sulla base delle posizioni giuridiche soggettive, diritto soggettivo, interesse legittimo. Con l'eccesso di potere giurisdizionale si è aperta la strada alla sindacabilità delle sentenze del giudice amministrativo, Consiglio di Stato, al di fuori della individuazione delle posizioni giuridiche soggettive, andando a vedere anche se il giudice amministrativo ha dato o meno la tutela giurisdizionale che avrebbe dovuto dare in base all'ordinamento giuridico. Ultimamente ricordo ad esempio che è stata annullata una sentenza del Consiglio di Stato di cui io ero Presidente, nella quale noi ci siamo attenuti alla decisione della plenaria per quanto riguarda il ricorso incidentale e il ricorso principale. Intanto era intervenuta successivamente la sentenza della Corte di Giustizia, la quale aveva detto che non era possibile praticamente fermarsi all'esame del ricorso incidentale come noi avevamo fatto adeguandoci alla giurisprudenza della plenaria, ma bisognava esaminare per una questione di parità delle armi tutti e due i ricorsi e quindi la Cassazione ha ritenuto che la decisione del Consiglio di Stato fosse espressione di un eccesso di potere giurisdizionale perché noi non abbiamo dato la tutela giurisdizionale che si sarebbe dovuta dare. Diciamo che con questo eccesso di potere giurisdizionale sostanzialmente che cosa è successo? Che è stato introdotto un terzo grado oltre al quarto grado rappresentato dalla revocazione, quindi spesso e volentieri sentenze del Consiglio di Stato vengono ad essere impugnate per revocazione e vengono ad essere poi impugnate in Cassazione per eccesso di potere giurisdizionale. Quindi siamo arrivati sostanzialmente a un quarto grado laddove invece esigenze di tutela giurisdizionale, ma questo poi è un discorso che riguarda riforme prospettive e di riforma successiva. Forse ci indurrebbero a riformare il sistema consentendo le impugnazioni soltanto per motivi estremamente particolari cercando in ogni caso di accorciare i tempi a dei contenziosi. Vi auguro un buon proseguimento e vi ringrazio per l'attenzione. Grazie al Presidente Volpe per la sua relazione introduttiva, per il suo saluto introduttivo e per l'ospitalità in questa sede prestigiosa. Io penso che dietro questo impegno organizzativo congiunto della scuola con la collega De Rensis e dell'ufficio della formazione del Consiglio di Stato e dei giudici amministrativi con i colleghi Crescenti e Alfredo Storto ci sia la consapevolezza di un dato culturale comune, nel senso che la giurisdizione riflette un impegno culturale plurale dove sono coinvolti giudici ordinari e giudici amministrativi al contempo. La giurisdizione è creata presso gli uffici di merito dove si affrontano i temi del rilievo, dell'eccezione, del conflitto di giurisdizione e la soluzione che discende dalle sentenze delle sezioni unite, l'organo regolatore della giurisdizione, non sono soluzioni, non sono come ordini di conformità che discendono dall'alto, ma raccolgono stimoli che nascono dalla esperienza concreta. Di cui l'importanza di un incontro di formazione che si svolge in prossimità dei luoghi dove si esercita la giurisdizione. Proprio perché dalla verifica delle tendenze che emergono nella giurisprudenza sulla individuazione del giudice munito di giurisdizione è possibile cogliere insieme i punti fermi, ma anche come evidenziava il presidente Volpe le criticità. L'incontro di studi è ricco di temi, di relazioni, le relazioni di apertura di stamani sono affidate alla professoressa Ilaria Pagni e alla professoressa Chiara Cacciavillani e riguardano un tema squisitamente processuale. Il tema cioè della declinazione della questione di giurisdizione nel processo. Un tema di apertura nel quale si colgono e si riassumono le novità giurisprudenziali e normative di quest'ultimo periodo perché la questione di giurisdizione rappresenta, continua a rappresentare un elemento forte perché è coessenziale alla individuazione del giudice munito di potestas iudicandi e quindi è coessenziale alla individuazione del giudice naturale precostituito per legge. Però accanto a questa esigenza di individuazione e quindi di separazione di potestas iudicandi c'è una esigenza di semplificazione. La giurisdizione e il riparto è una problematica con minore assolutezza rispetto al passato perché la decisione della questione di giurisdizione si carica di valori altri che sono il valore della ragionevole durata del processo, il valore della semplificazione e il valore della effettività della tutela con la traslazio e la trasmigrazione. Darei quindi subito la parola a Ilaria Pagni che ringrazio per la sua relazione. Ringrazio gli organizzatori, ringrazio il Presidente Volpe per questa introduzione che ha fatto e che ha portato l'attenzione su un tema, quello della giurisdizione sportiva, che credo debba essere effettivamente oggetto di un'attenta analisi perché è uno dei temi al crocevia fra il diritto processuale civile e il diritto processuale amministrativo. Per quanto riguarda l'incontro di questa mattina, la questione di giurisdizione deve essere presa da un punto di vista che è quello del ridimensionamento che la questione di giurisdizione ha subito in questi ultimi anni. Ridimensionamento che sostanzialmente corrisponde all'idea che la giurisdizione non sia tanto espressione di un potere statuale quanto espressione di un servizio per la collettività che quindi deve essere letta in una determinata chiave che è la chiave di cui parlava il Consigliere Giusti e cioè appunto la ragionevole durata, l'economia processuale, anche l'effettività della tutela anche se sappiamo che molto spesso l'effettività della tutela e la ragionevole durata non sono necessariamente nella stessa logica e nella stessa direzione perché l'effettività della tutela qualche volta presuppone anche un processo lungo, un processo lungo nel quale si dia sfogo a tutte le eccezioni e a tutti i rilievi delle parti. Sono principi quelli costituzionali che non è facile combinare insieme e questo tema della giurisdizione è un tema che si trova al crocevia di tali e tante suggestioni che alla fine potremmo considerarlo una sorta di cubo magico in cui riuscire a ricomporre i vari aspetti non è semplicissimo. Noi dobbiamo prendere le mosse da alcuni interventi della giurisprudenza perché ormai la giurisdizione è tema toccato e trattato alla giurisprudenza molto più di quanto non lo sia dalle norme del codice. Forse possiamo far riferimento a norme del codice per quanto riguarda l'articolo 59 sulla traslazione judici o le norme corrispondenti del codice di processo amministrativo e del codice della giustizia contabile. Ma già se guardiamo invece all'articolo 37 sapete tutti l'articolo 37 del codice di procedura civile quanto quella norma sia scritta in un modo e viva in un altro e come nonostante siano state molte le commissioni di riforma che si sono occupate del processo civile nessuno abbia pensato in realtà di modificare quella norma. Lasciandola vivere così tenendo conto che il diritto vivente in questo caso supera abbondantemente i termini del diritto vigente tant'è che oggi le norme corrispondenti del codice di processo amministrativo e del codice di giustizia contabile hanno riscritto la norma per come la giurisprudenza l'ha letta nel 2008. Ora che questo della giurisdizione sia un tema al crocevia di varie rilievi e di varie suggestioni lo dimostra il fatto che nel momento in cui si parla da un lato di effettività della tutela e dall'altro di principio di ragionevole durata vengono però in gioco una serie di altri temi che sono di carattere più strettamente processuale, più tecnico, più sistematico. Per esempio il tema del giudicato implicito e delle altre questioni impedienti perché il giudicato implicito che viene predicato con riferimento alla giurisdizione con enorme tranquillità, che viene predicato con riferimento ai invalidità negoziali, quindi nel caso del contratto invalido dalle sentenze delle sezioni unite del 2014, viene poi escluso come possibilità di formazione con riferimento alle altre questioni processuali impedienti, quelle che non consentono al sistema di procedere, mentre la giurisdizione sì perché si ritiene che sia a questo punto una questione recessiva di minore importanza derogabile, quindi di fatto quelle questioni insanabili, penso all'etis consorzio, alla rappresentanza processuale, a tutti quei temi che condizionano la stessa validità del rapporto processuale e rispetto ai quali di giudicato implicito non si può parlare. Un altro tema che viene in gioco con riferimento a questo della giurisdizione, faccio una sorta di mappatura iniziale, poi ovviamente tutti questi argomenti meriterebbero ciascuno un'apposita relazione e non potranno essere trattati approfonditamente nello spazio di questa mezz'ora, però è per darvi il quadro generale dei temi che si vengono a incrociare, per esempio l'ordine logico delle questioni. Noi partiamo dal presupposto che il giudice debba innanzitutto valutare la propria giurisdizione e questo ce l'hanno ricordato anche le sezioni unite con due sentenze del gennaio del 2016, quindi la giurisdizione viene prima della competenza, sappiamo anche che alcuni commentatori parlando di quella sentenza, penso a Cesare Glendi, hanno ricordato il famoso racconto di Plutarco a proposito dell'uovo e della gallina, cosa venga prima delle due, perché obiettivamente non è semplice, ragionando in termini di principi, stabilire se venga prima la giurisdizione o prima la competenza. E penso ancora al fatto che nel momento in cui si parla, quando le sentenze del 2008 sono intervenute sull'articolo 37, si parla, dicevo, di un difetto ormai divenuto sanabile, sanabile con determinate caratteristiche, per esempio con la conservazione degli effetti sostanziali processuali della domanda, voluto dalla Corte Costituzionale nel 2009 e poi ripreso dalla norma sulla traslazio di udici, si va a toccare anche un altro tema caldissimo per la Corte di Cassazione, che è quello del ricorso incidentale condizionato. Se cioè col ricorso incidentale condizionato, la volontà della parte possa condizionare l'ordine logico delle questioni. E ancora, proprio a dimostrazione di quanti temi si intrecciano, anche la lettura che viene data dalla Corte di Cassazione del regolamento preventivo di giurisdizione, che non può essere sollevato una volta che sia stata decisa la questione non tanto di merito, perché questo è scritto nella norma, ma anche per quanto riguarda un'eventuale questione di giurisdizione, un'altra questione di rito, ecco questo è tema nel quale la lettura della Corte di Cassazione, ribadita anche recentemente, ribadita anche dopo l'entrata in vigore della norma sulla traslazio di udici, in qualche modo confligge con la ragionevole durata del processo, perché non consentire il regolamento preventivo di giurisdizione in un caso di questo tipo fa sì che di fatto il processo necessariamente si allunghi, a dimostrazione di come questi principi, effettività ragionevole durata, economia processuale, siano principi alti che però non è sempre semplice declinare con riferimento agli singoli istituti, perché qualche volta vengono utilizzati per dire tutto il contrario di tutto. Da questo punto di vista un qualche self-restrain maggiore da parte dei nostri giudici servirebbe, perché purtroppo se utilizziamo troppo questi principi, non per interpretare, questo va benissimo, ma anche per abrogare le norme, come è successo nel caso dell'articolo 37, si finisce per andare probabilmente oltre quella che è la funzione, penso in questo caso alla Corte di Cassazione, non me ne vogliano i giudici di Cassazione, e riscrivere le regole in una maniera che poi la maggior parte della dottrina considera sbagliato, ma non considera sbagliato perché ritiene che non possa la Corte di Cassazione modificare l'articolo 37, perché l'idea del giudicato implicito che sta alla base di quella lettura è un'idea che negli anni, nel tempo, la maggior parte della dottrina ha sempre ritenuto sostanzialmente infondata. Invece vedremo che sulla tesi del giudicato implicito sono costruite non soltanto le decisioni sull'articolo 37, ma anche tutta una serie di altre decisioni. In questi temi si aggiunge anche un altro che è stato oggetto di un intervento della Corte di Cassazione abbastanza di recente, che è il tema dell'autoeccezione. Questo è un tema che tocca tanto la giurisdizione, tanto i giudici amministrativi quanto i giudici ordinari, per il fatto che, voi sapete che a proposito dell'autoeccezione, cioè del caso in cui l'attore che avesse scelto il giudice fin dall'inizio, voglia poi andare a impugnare la questione di giurisdizione, sapete, dicevo, che su questa questione ci sono stati orientamenti distinti di formi fra Cassazione e Consiglio di Stato, nel senso che il Consiglio di Stato sostanzialmente, ma poi penso ne parlerà la professoressa Cacciavillani, ha ritenuto che fare un'operazione di questo tipo comporti una sorta di abuso del processo, mentre la Corte di Cassazione, almeno fino a poco tempo fa, aveva sempre ritenuto che di abuso di processo non si potesse parlare. E questa sarebbe un'altra parentesi da aprire, perché anche l'abuso del processo è un altro di quei temi che viene purtroppo utilizzato un po' troppo frequentemente per leggere le norme processuali, per leggere le condotte processuali. La Corte di Cassazione, dicevo, aveva detto che l'abuso del processo non è il tema al quale si deve far riferimento, che il comportamento della parte può essere sanzionato sotto il profilo della condanna alle spese, oppure si può valutare l'ammissibilità di un'impugnativa di questo tipo sotto il presupposto se ci sono effettivamente grossi problemi di interpretazione del sistema, e ce ne sono, ce lo ricordava il Presidente Volpe, quando ricordava la tormentata vicenda dell'attribuzione per blocchi di materie o quando ricordava il caso Di Bella, che è un altro caso che ha affannato i nostri giudici. Ecco, in situazioni di questo tipo, obiettivamente ammettere un'impugnativa dal punto di vista dell'attore sulla giurisdizione potrebbe essere una soluzione corretta. La Corte di Cassazione, ma lo vedremo alla fine, ha preso in mano questa vicenda e l'ha risolta in una maniera diversa non consentendo l'impugnazione. Non consentendo l'impugnazione non per i profili dell'abuso del processo, non ragionando in termini di spese, ma ragionando in termini puramente e semplicemente di soccombenza. Solo che per ragionare di soccombenza ha dovuto individuare due oggetti del processo, un oggetto sostanziale e un oggetto processuale, e l'idea dell'oggetto processuale è una di quelle idee di teoria alta che necessariamente devono essere prese con le molle, diciamo così, per evitare che ragionando l'oggetto del processo si finisca poi nella teorica del giudicato implicito. Quindi capite da questa mappa che vi ho tracciato quanti temi si possano incrociare fra loro e quanto sia difficile affrontarli tutti, praticamente impossibile nell'arco di questo spazio che mi viene destinato, però con l'idea che si debba sapere che quando si va a parlare di giurisdizione, laddove si tocca un punto se ne scopre un altro, perché inevitabilmente si tratta di temi tutti quanti collegati. Allora, cominciando dall'articolo 37 e dal discorso giudicato implicito, voi sapete tutti quanti come nel 2008, con tre sentenze che vengono definite un trittico, ma sono effettivamente tali perché hanno detto non tutte la stessa cosa, queste tre sentenze alle quali si aggiunge l'altra del 2009 sul ricorso incidentale condizionato, la Corte di Cassazione ha utilizzato l'argomento dei valori funzionali del processo, della sostenibilità del difetto di giurisdizione così come veniva letto, quindi la sostenibilità proprio da un punto di vista economico, sostenibilità dell'articolo 37 per dire che il difetto di giurisdizione non poteva essere considerato ancora un difetto insanabile, nel senso un difetto che potesse essere rilevato in ogni stato e grado del processo, ma che dovesse avere una disciplina distinta a seconda che si guardasse al primo grado o ai gradi successivi. L'articolo 37 continua a recitare in difetto di giurisdizione del giudice ordinario nei confronti della pubblica amministrazione o dei giudici speciali rilevato anche d'ufficio in qualunque stato e grado del processo. La Corte di Cassazione fa un rilievo di carattere letterale rispetto al quale mi permetto di dire che Edoardo Ricci, purtroppo scomparso, poi non ridì perché la Corte di Cassazione aveva detto che quello di Cassazione, quello di legittimità non è, non si può considerare un grado e appunto rispetto a questo la dottrina processuale ebbe un qualche sussulto, ma al di là di questo argomento letterale fu proprio da un punto di vista sistematico che la Corte di Cassazione nel 2008 ritenne che il difetto andava letto scorporando due parti. Una prima parte, dicevo, con riferimento al primo grado di giudizio in cui effettivamente il giudice custode la giurisdizione. Il difetto può essere rilevato in termini diversi rispetto a quelli del difetto di competenza, quindi anche suscettivo di essere rilevato dopo la primodienza, tutto questo fin quando non interviene una pronuncia che si esprima sulla giurisdizione implicitamente o esplicitamente. Quindi è un difetto che in primo grado ha un ampio margine di essere sollevato e anche ha un'ampia estensione soggettiva, tant'è vero che può essere sollevato anche da entrambe le parti oltre che d'ufficio. Se noi guardiamo invece all'articolo 11 del Codice del processo amministrativo o all'omologa norma all'articolo 15 del decreto legislativo del 2016 in materia di giustizia contabile, la norma non è scritta più così, è scritta come l'ha letta la giurisprudenza. Il difetto di giurisdizione è rilevato in primo grado anche d'ufficio. Nei giudizi di impugnazione il difetto di giurisdizione è rilevato se dedotto con specifico motivo avverso il capo della pronuncia impugnata che in modo implicito o esplicito ha statuito sulla giurisdizione. Quindi si introduce l'idea del capo implicito sulla giurisdizione. Ma il capo implicito sulla giurisdizione esiste o non esiste? Perché questo è il vero problema. Nel senso che se noi riteniamo che un capo implicito sulla giurisdizione esista, allora si può anche arrivare a una lettura di questo tipo. Ovviamente sarebbe meglio che una lettura di questo tipo, almeno per quanto riguarda la giurisdizione civile, fosse frutto di un intervento normativo e non di un'interpretazione abrogante. Rimane il fatto, e poi arriverò a toccare il tema del giudicato implicito e quindi del capo implicito, che questo articolo 37 viene letto dalla sentenza della Cassazione che ricordavo, che poi è quella principale, la 24883 del 2008, insieme alle altre due sentenze, di cui la 26019 del 2008 si occupa delle questioni processuali impedienti, diverse alla giurisdizione e le tratta diversamente. Quindi dice che là un giudicato implicito non si può porre, perché quella questione va affrontata esplicitamente. E ancora Cassazione 29523 del 2008, che lascia uno spazio applicativo all'articolo 37, quindi nonostante la lettura dell'altra sentenza si ritiene che l'articolo 37 abbia ancora un margine, in quale ipotesi? Quando di fatto si abbia il meccanismo della ragione più liquida. Il meccanismo della ragione più liquida che voi sapete ricorre spessissimo, tanto per quanto riguarda le invalidità negoziali, in generale tutte le volte che si tocca il tema dell'ordine logico delle questioni. Quindi in pratica si va a dire che se la pronuncia è una pronuncia di rigetto, quindi vale soltanto per il caso del rigetto e non dell'accoglimento, che si fonda su un unico motivo portante, potrebbe essere l'ammissibilità della domanda o una questione di infondatezza di altro genere, però evidente, di estrema evidenza, ecco quando la pronuncia è di rigetto fondata su quell'unico motivo portante, allora in questo caso non è possibile ragionare di giudicato implicito sulla giurisdizione. Al di là di queste ipotesi, l'articolo 37 viene letto come dicevo, quindi con questa scorporazione fra il primo grado e il secondo e gli altri gradi di giudizio, per cui nel secondo grado di giudizio ormai il difetto non può più essere rilevato. Ora, questo tema, così come viene letto, dicevo ci porta a affrontare la questione del giudicato implicito. Noi non abbiamo difficoltà a leggere e a ritenere corrette le sentenze e le sezioni unite del 2014 sulle invalidità negoziali, laddove quelle sentenze hanno appunto fatto leva sul tema del giudicato implicito per ritenere che tutte le volte che il giudice si pronuncia sull'effetto del contratto, in realtà implicitamente si pronuncia anche sulla validità del contratto e che si pronunci sull'effetto del contratto non solo quando deve dare esecuzione al contratto, ma anche quando stia ragionando di risoluzione, di rescissione e di annullamento. Questo in una visione amplissima dell'oggetto del processo che personalmente condivido e che quelle sentenze fanno proprie. Cosa succede però? Che là stiamo parlando di un oggetto del processo che esiste, perché stiamo parlando sempre, intanto di merito, e nel merito stiamo ragionando di due oggetti, non perché immaginiamo che ci siano un oggetto processuale e un oggetto sostanziale, ma perché veramente l'oggetto sostanziale è fatto di due parti, il contratto da un lato e gli effetti del contratto dall'altro. È il tema dei limiti oggettivi del giudicato, è il tema dell'articolo 34 del codice di procedura, è il tema con riferimento al quale inevitabilmente noi dobbiamo ragionare di due oggetti distinti che possono essere, costituire oggetto esplicito o implicito di una pronuncia. Quando ci spostiamo invece a ragionare di giudicato implicito con riferimento alla giurisdizione e quindi ipotizziamo che ci siano effettivamente due oggetti, un oggetto processuale e un oggetto sostanziale, è vero che rispetto all'oggetto processuale, lo dirà la sentenza estensore giusti del 2016, quello che parla dell'autoeccezione, che rispetto a questo oggetto processuale si possa predicare soccombenza. Quindi è vero e può essere questa una giustificazione per la quale l'attore che ha proposto la domanda davanti a un certo giudice e poi soccomba nel merito non sia però soccombente rispetto alla giurisdizione e quindi non possa impugnare sotto il profilo della giurisdizione. Può proporre regolamento preventivo ma è altra cosa, lo può fare perché lì c'è un oggettivo interesse a sapere come stanno le cose e c'è una legittimazione amplissima che prescinde dall'interesse soggettivo. Però al di là di questo non può impugnare, dicevo, perché in realtà non c'è soccombenza rispetto a quell'oggetto processuale. Quindi non essendo soccombente non può impugnare. Questa è un'affermazione che si può fare. Da lì a dire però che si può formare un giudicato implicito sull'oggetto processuale, che è quello che dice anche la sentenza giusti ma che riprende sostanzialmente l'impostazione da cui ero partita le sentenze del 2008, un po' ce ne corre. Perché questa idea del giudicato implicito, appunto agganciata alla teoria del doppio oggetto, dimentica che in realtà tutte le volte che la questione viene riportata davanti all'attenzione del giudice è la questione del merito. Cioè la domanda che si fa al giudice è una soltanto. Non gli si chiede se sia fornito di giurisdizione, di competenza, se ci sia la legittimazione, rappresentanza e così via. Queste sono le condizioni perché il rapporto processuale esiste e sia valido. Ma quello che si chiede al giudice è il bene della vita. E quindi nel momento in cui si ragiona del bene della vita è soltanto sul bene della vita che si forma il giudicato, mentre tutte le altre questioni che si formano sono questioni che ovviamente vengono esaminate, che poi passano al grado successivo una volta che l'impugnante abbia impugnato la sentenza. Quindi se questa è la lettura che anche i sostenitori del doppio oggetto di processo, penso a Claudio Consolo, ritengono di poter coltivare, non possiamo dimenticarci allora l'insegnamento di Allorio che già nel 1938 ci diceva in uno scritto brevissimo sulla rivista di diritto processuale, ma complicatissimo da leggere, che in realtà se la guardiamo bene questa teoria del giudicato implicito non ha ragione di essere. Allora non dico che dobbiamo rimettere in discussione l'articolo 37 e la lettura data alla Cassazione perché ormai quella lettura è una lettura pacifica. Non dico che non si debba tener conto del fatto che le norme che sono contenute nel codice della giustizia contabile del codice del processo amministrativo non condizionino l'interpretazione di quella norma. Dico piuttosto che siccome il giudicato implicito viene utilizzato non soltanto a proposito dell'articolo 37 ma viene utilizzato molto spesso da parte della Corte di Cassazione, dovremmo almeno fare attenzione a non utilizzarlo troppo proprio perché forse è un concetto che va ripreso in esame e sul quale bisogna ragionare di nuovo. Ora capisco che si tratti di argomenti particolarmente complicati e d'altra parte è il tema della giurisdizione che è complicato perché se ci spostiamo da questo dell'articolo 37 al tema dell'ordine logico delle questioni la situazione non migliora. Quindi è quasi più complesso questo argomento dell'ordine logico di quanto non sia l'altro del giudicato implicito e purtroppo sono queste le norme con le quali dobbiamo fare i conti. Quindi immaginiamo appunto il tema dell'ordine logico delle questioni che significa questo. Perché posso ipotizzare che dopo il primo grado non si possa andare al grado successivo rilevando il difetto di giurisdizione? Perché devo immaginare che la pronuncia del giudice di primo grado che statuisca sul merito sia una pronuncia che abbia affrontato tutti gli antecedenti logici del proprio ragionamento e che fra questi antecedenti logici ci siano nell'ordine giurisdizione competenza e le altre questioni processuali impedienti le disconsorti o legittimazioni e via dicendo. Ma se devo ragionare in questo modo evidentemente io postulo che un ordine logico delle questioni da qualche parte nel codice sia scritto. Che il giudice effettivamente sia tenuto per legge a seguire questa progressione geometrica per cui innanzitutto stabilisce se è il giudice naturale di quella controversia ragionando di giurisdizione e poi scende invece a ragionare della propria competenza per poi affrontare le questioni processuali fondanti. E infine il merito. Nel codice di procedura c'è una norma, l'articolo 276, che parla dell'ordine delle questioni. Parla di un ordine di trattazione ma da questo articolo 276 per quanti sforzi di lettura si siano fatti nessuno è riuscito a trarre più che non il fatto che all'interno del rito non è possibile stabilire un ordine di priorità. È possibile stabilire un ordine di priorità fra rito e merito nel senso che la maggior parte degli interpreti ritiene che prima necessariamente venga il rito dopo il merito ma già questo lo si supera col tema della ragione più liquida perché qualche volta si salta direttamente al merito, lo hanno detto anche le sentenze e le sezioni unite del 2014 sulle invalidità negoziali e poi che all'interno del merito non sia possibile in realtà fare una gradazione di ordine di questioni non fosse altro per il fatto che molte volte è la volontà della parte che condiziona l'ordine delle questioni se mette domande e eccezioni in modo gradato. Questo tema lo ritroviamo anche a proposito del ricorso incidentale condizionato. Quando si ragiona di difetto di giurisdizione e abbiamo l'ipotesi in cui sia il convenuto che voglia riproporre la questione di giurisdizione dopo però che è stato vittorioso sul merito, il convenuto che vada a riproporre la questione di giurisdizione è un convenuto che di fatto sta imponendo un ordine al Corte di Cassazione, cioè sta dicendo, imponendo appunto la propria volontà, che quella questione deve essere affrontata in modo condizionato all'accoglimento del ricorso principale. Ecco questa lettura è stata, quando fu sostanzialmente per la prima volta introdotta nel 2009 e poi è stata ripresa in considerazione da sentenze successive, è stata oggetto di grande attenzione da parte degli interpreti perché giustamente si è notato che così facendo si consente a una parte di condizionare anche in grado di legittimità l'impostazione da parte del giudice e di fatto gli si impone di valutare prima il merito e dopo la giurisdizione. Mentre siccome abbiamo detto che comunque il rito viene prima del merito, una volta che questa questione viene introdotta in via di ricorso incidentale non dovrebbe essere oggetto di un ricorso incidentale condizionato, ma sostanzialmente la questione di giurisdizione dovrebbe essere esaminata sempre comunque per prima, per non sovvertire l'ordine logico delle questioni. Vi segnalo, ma immagino che la conosciate, a proposito di questa questione dell'ordine logico delle questioni, la sentenza della Corte di Cassazione a sezioni unite del gennaio, noi abbiamo due sentenze, la numero 29 e la numero 30 del 2016, che hanno sostanzialmente rovesciato l'impostazione che era stata data dall'ordinanza di rimessione, estensore Bernabai, con la quale si era chiesto alla Corte di Cassazione. Siamo proprio sicuri che la giurisdizione venga prima della competenza, perché se per la competenza abbiamo il principio del giudice naturale precostituito per legge, è evidente che nel momento in cui il giudice pronuncia sulla giurisdizione deve prima aver valutato se è fornito di competenza, altrimenti ha pronunciato sulla giurisdizione senza essere il giudice competente. Rispetto a questa impostazione, che era un'impostazione possibile e corretta, l'uovo o la gallina, non sappiamo quale viene prima dei due, la Corte di Cassazione con le due sentenze che ricordavo, la 29 e la 30, hanno detto che in realtà non è possibile ragionare in questo modo, perché la garanzia del giudice naturale opera anche per la giurisdizione e quindi è perfettamente rovesciabile l'argomento e si può perfettamente sostenere che il giudice debba dapprima valutare se è fornito di giurisdizione e solo dopo debba ragionare di competenza, perché l'estensore Bernabai si poneva il problema. Se lo poneva perché diceva un conto è vedere la questione dall'angolo visuale della Cassazione. La Cassazione ha davanti il giudice fornito di giurisdizione e fornito di competenza e deve decidere quale dei due argomenti venga per primo. Un conto è la prospettiva del giudice di merito di primo grado. Il giudice di merito di primo grado che affronta la questione della competenza e della giurisdizione, se affronta la giurisdizione per prima non si sa se è competente, se affronta la competenza per prima non si sa se è fornito di giurisdizione, quali delle due devono essere ritenute prevalere? Ripeto, la Corte di Cassazione ha dato questa risposta, ma proprio perché è molto difficile stabilire quale sia l'ordine delle questioni di rito, proprio perché non esiste un ordine logico delle questioni, potremmo continuare a ragionarne per un sacco di tempo. Però è importante che lo facciamo perché questa questione condiziona per esempio la lettura del regolamento preventivo di giurisdizione, condiziona la possibilità di sollevare la questione di giurisdizione all'interno del regolamento di competenza. Rispetto al regolamento di competenza, la Corte di Cassazione dice la questione di giurisdizione deve poter essere sollevata, perché se non si potesse sollevare finiremmo per operare una scissione, per cui la giurisdizione seguirebbe una propria strada in sede di impugnazione, la competenza un'altra, e avremo un rovesciamento dell'ordine logico delle questioni. Veniamo alla traslazio. La traslazio di udici è tema che affronterà essenzialmente immagino la professoressa Cacciavillani perché è tema comune a entrambe le giurisdizioni. L'articolo 59 è una norma infelice rispetto alla norma del codice processo amministrativo e alla norma del codice di giustizia contabile. È infelice perché manca di una serie di aspetti e per altri utilizza delle espressioni che non sono sempre a perfetta tenuta. È al tempo stesso però una norma più ampia rispetto a queste, una norma che affronta alcuni temi che di là non sono stati affrontati e quindi di fatto impone che si dia una lettura combinata di queste varie norme anche perché i plessi di giurisdizione ormai non sono più affetti da incomunicabilità e devono parlarsi fra loro. Quindi già stabilire l'ambito applicativo dell'articolo 59 non è una cosa semplicissima. Teniamo conto che a questo punto abbiamo norme speciali con riferimento a questi due settori, rimane fuori sostanzialmente la giustizia tributaria, a parte casi di giurisdizione speciale di tipo diverso. Quindi se noi dobbiamo leggere queste norme vediamo che l'ultima in ordine di arrivo, quella del codice della giustizia contabile, ha tenuto un po' conto di quelle che erano state le discussioni a proposito della differenza fra l'articolo 59 e la norma del processo amministrativo, ma ne ha tenuto conto relativamente perché riproduce ancora una volta quei verbi riproporre e riassumere che di fatto sono il problema principale, almeno sono stati a lungo tempo il problema principale, della previsione della traslazio judici. Che cos'hanno di problematico queste espressioni? Hanno di problematico che normalmente quando parliamo di traslazio judici a proposito della competenza, noi immaginiamo un processo che effettivamente trasla, così come è nato, così si sposta davanti al giudice fornito di competenza. Però stiamo ragionando evidentemente di un processo che è fatto con lo stesso assetto di tutele. Un processo che salvi i casi dell'impugnativa della delibera assembleare o dell'impugnativa del licenziamento non ha valenza impugnatoria. Quindi non ha la somiglianza col processo amministrativo che pur con tutti gli allargamenti in punto di azioni che ci sono state in questi anni nel codice del processo amministrativo, tuttavia rimane ancora un processo abbastanza saldamente ancorato all'atto. Al di là di tutte le difficoltà interpretative e di tutti i tentativi di leggere il processo amministrativo come giudizio sul rapporto. Se la situazione è questa e quindi se abbiamo un assetto di tutele diverso mentre all'interno della competenza questo tema non c'è, è evidente che non è semplice parlare di traslazione del giudizio, non è semplice parlare di riassunzione perché quello che si riassume è un processo che va adattato alle caratteristiche della situazione sostanziale. Quindi anche semplicemente utilizzare l'articolo 125 del codice di procedura, cioè la norma che mi dice come devo riassumere il processo, non è semplice perché l'articolo 125 non mi consente quell'adattamento nel passaggio da un processo impugnatorio a un processo che ha per oggetto un diritto o viceversa da un processo che ha per oggetto un diritto a un processo a carattere impugnatorio. Sono espressione di questa difficoltà di adattamento tutte le previsioni che sono contenute nell'articolo 59. Penso per esempio alla previsione che è interessante e importante per i giudici di merito è relativa alle prove. Quando si parla del fatto che le prove nel processo riassunto o riproposto vengono valutate come argomenti di prova, ci si scontra col fatto che le prove diventano argomenti di prova solo in caso di estinzione. Quindi normalmente noi le prove che abbiamo utilizzato in un processo che trasla non le consideriamo argomenti di prova, le consideriamo prove vere e proprie. Diventano argomenti di prova solo nel momento in cui si passa da un processo che evidentemente era il processo in essere, poi questo processo si estingue, si apre un nuovo processo e lì le prove valgono come argomenti di prova. Questo tema delle prove proprio sconta la difficoltà terminologica della riproposizione e della riassunzione, tanto che qualcuno ha voluto intendere che i giudici del merito non debbano considerare come argomenti di prova le prove raccolte nell'altro processo, ma le debbano considerare come prove vere e proprie. Rilegando le ipotesi degli argomenti di prova è solo i casi in cui il processo sia stato riassunto, ma riassunto tardivamente e quindi si sia estinto. Perché voi sapete che la riassunzione deve avvenire nell'arco di tre mesi dal passaggio ingiudicato della sentenza. E sapete anche che la Corte di Cassazione ha esteso questa possibilità, l'ha ampliata, dicendo che non devo necessariamente aspettare il passaggio ingiudicato, posso anche farlo prima. Però ovviamente se lo faccio dopo, i tre mesi sono il termine ultimo, dopodiché il processo si estingue. Quindi per quanto riguarda le prove, la lettura che viene normalmente data è quella per cui cerchiamo di salvare le prove raccolte nell'altro processo per quanto possibile, riservando il tema degli argomenti di prova soltanto a casi residuali, ovvero quando le prove sono prove costituende, quando non hanno valore di prova legale ma soltanto di prova libera e non dimenticando che comunque gli argomenti di prova costituiscono prova e quindi debbono essere utilizzate soltanto per fondare il giudizio di superfluità della prova e non debbono essere utilizzate in altro modo. Al di là del tema degli argomenti di prova, e mi avvio rapidamente alla conclusione, c'è anche il tema delle misure cautelari. Il tema delle misure cautelari rese dal giudice che sostanzialmente non era fornito di giurisdizione, che sorte hanno nell'altro processo? Qui l'articolo 59 niente dice, mentre gli articoli corrispondenti del codice processo amministrativo e del codice giustizia contabile sì, hanno una previsione espressa, il punto è se quelle norme sono esportabili di là, perché da un punto di vista teorico sistematico si era sempre detto che invece quelle misure cautelari mantenevano la propria efficacia, anche se rese da un giudice sfornito di giurisdizione. Quindi stando all'articolo 59 si sarebbe dovuto ritenere che quelle misure cautelari rimanessero e che invece perdessero efficacia nel processo amministrativo e nel processo contabile. È evidente che questa è una lettura che a questo punto sconta un po' di difficoltà, perché ancora ancora finché c'era soltanto il codice processo amministrativo ora c'è anche l'altro e quindi probabilmente questa lettura deve essere superata. Stando così le cose, le misure cautelari sono misure che rimangono in piedi per 30 giorni, una sorta di un bello ombrello protettivo e che poi devono essere necessariamente richieste al giudice fornito di giurisdizione. Vengo all'ultimo tema e poi chiudo, che è quello della preclusione e delle decadenze. L'articolo 59 nella stessa maniera le norme omologhe degli altri due codici parlano di preclusioni e decadenze, dicendo che le preclusioni e le decadenze rimangono ferme ma sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda. Allora qui intanto per quanto riguarda le preclusioni bisogna ragionare del fatto che le preclusioni che si sono maturate davanti al giudice non fornito di giurisdizione si ripercuotono anche nell'altro processo, salva però la possibilità di rimessione in termini per errore scusabile, che nell'articolo 59 non c'è, che è però nelle altre due norme che quindi in via di interpretazione analogica si può estendere anche al processo civile. Viceversa per quanto riguarda le decadenze, qui la decadenza è quella iniziale, quindi la decadenza rispetto alla proposizione della domanda. E allora un conto è l'ipotesi in cui la decadenza si sia maturata prima che il processo venga introdotto, il processo sbagliato chiamiamolo così. Se si è maturata prima quella decadenza intervenuta rimane ferma. Se invece la decadenza si è maturata dopo e il processo sbagliato l'ha impedita, con una sorta di fixio iuris la norma dell'articolo 59 e le norme omologhe ritengono che sostanzialmente si abbia una sanabilità retroattiva agganciata come effetti a quelli della prima domanda. In altre parole una prima domanda che non poteva produrre l'effetto impeditivo ma che comunque temporalmente è stata posta in essere viene sanata attraverso questa disciplina del difetto di giurisdizione e di conseguenza è data la possibilità che quegli effetti sostanziali processuali si producano lo stesso. Questa è la lettura combinata delle varie norme che consente a preclusioni e decadenze di operare tenendo conto del problema che citavo all'inizio, quello delle prove. Nel senso che se le preclusioni si sono maturate e quindi se non si dà spazio alla possibilità della rimessione in termini, abbiamo che un attore o un convenuto che hanno formulato richieste istruttorie per prove vere, chiamiamole così, si vedono poi degradate queste prove a argomenti di prova senza avere la possibilità perché le preclusioni si sono maturate e di richiedere nuovamente. Questa è una delle ragioni per cui questa norma non è a perfetta tenuta, è una delle ragioni per cui il lavoro interpretativo sulla norma deve essere ancora abbastanza avanzato. Diciamo che concludendo, ci sarebbero tantissimi altri temi ma posso perfettamente capire che la platea sia stanca. Bisogna ragionare di una cosa, che il motivo da cui siamo partiti è la giurisdizione non più come espressione del servizio statuale ma come espressione di risorsa al servizio della collettività. È certamente una espressione, un valore che si può affermare. A me piace di più pensare che tutti questi tentativi di contenimento della questione di giurisdizione siano nella logica di Virgilio Andreoli, la logica per la quale appunto il processo deve dare ragione a chi ha ragione, torto a chi ha torto e soprattutto deve assicurare il bene della vita senza che le questioni processuali finiscano per essere un ostacolo. Lo diceva Andreoli nel 65 per immaginare che la traslazione udici già esistesse allora. Sappiamo quanta strada si è dovuto fare, sappiamo che soltanto nel 2009 di fatto questa norma è diventata norma di legge, sappiamo anche i tentativi che ha fatto la Corte Costituzionale e la Corte Cassazione nel 2007, di fatto dando ragione a Andreoli, probabilmente con un percorso interpretativo che in quel caso non piacque perché è frutto di una sorta di contrasto fra Cassazione e Corte Costituzionale. Ma certamente se l'idea è quella di Andreoli cioè di riconoscere il bene della vita, allora al di là di tutti i discorsi che possiamo fare sull'economia processuale, credo che la norma, la disciplina della traslazione udici possa essere salutata con favore. Grazie. Ringrazio Ilaria Pagni per questa relazione molto profonda, molto brillante e molto più di una mappatura dei problemi, è proprio un collegamento sistematico tra tutti i nodi che vengono in emersione quando si affronta la questione di giurisdizione. La nuova lettura dell'articolo 37, il rapporto con l'ordine logico delle questioni, il rapporto con il giudicato implicito e le nullità negoziali e poi i problemi della pratica in tema di traslazio di giurisdizione. C'è margine e tempo per i vostri stimoli, le vostre domande, ma prima di questo darei la parola a Chiara Cacciavillani per la sua relazione su questi stessi temi. Buongiorno, ringrazio anche io gli organizzatori e ringrazio tutti voi per la vostra presenza. Allora, il tema è un tema di quelli classici che fanno tremarle bene i polsi. Io mi riallaccerei e riprenderei un rilievo che è molto penetrante di Ilaria Pagni, ossia su questo tema quando tu tocchi un punto, tocchi l'intero sistema, tu metti in circolo tutto. E poi un altro rilievo molto interessante del consiglieri giusti, cioè c'è un'esigenza di semplificazione del sistema alla luce di una stella polare, la stella polare del giusto processo, qualunque cosa esso sia. E questo ci riporta inevitabilmente ad Andrioli, come ci ha ricordato prima Ilaria, la professoressa Pagni, scusa. Allora, sul tema della giurisdizione però, secondo me, dobbiamo porci qualche interrogativo di base, ossia, e qui uso il lessico delle sezioni unite che è un po', se vogliamo, forse irriverente ma molto efficace, o cioè il tema del campo di gioco. Il tema del campo di gioco che è la famosa locuzione impiegata da sezioni unite 24883 del 2008, e a questa mi attengo perché è facile, è semplice, è immediata, si presta naturalmente ad essere scomposto in due oggetti, esistenza di campo di gioco e perimetro di campo di gioco. Allora, il tema dell'esistenza del campo di gioco ci porta inevitabilmente alla tema della sussistenza della potesta si judicandi, quando c'è, e allora è ovvio, nella nostra tradizione giuridica noi diciamo sempre, la giurisdizione non c'è quando nessun giudice è munito di giurisdizione. Però esiste un altro modo per intendere il vizio di difetto assoluto di giurisdizione, ossia di dare risposta alla domanda c'è o non c'è un campo di gioco. E la risposta appoggia sul 111 Costituzioni, sul articolo 111,1 della Costituzione, che mi dice la giurisdizione si attua nel giusto processo regolato dalla legge. Quindi, in derivazione da ciò, è possibile sostenere che se un processo non risponde al canone del giusto processo, la giurisdizione rimane inattuata. Questa non è una locuzione mia, ma è una locuzione di Sezioni Unite 2008. Qui è evidentissimo l'ambito problematico sollevato da questo modo di pensare la giurisdizione e il vizio di difetto assoluto di giurisdizione. Perché questo postula non solo la necessità di individuare i connotati del giusto processo, ma anche il problema di individuare quale sia il giusto processo. E qui è evocato lo scenario francamente inquietante delle distonie sul tema del giusto processo tra le Corti Supreme nostre, la nostra Corte Costituzionale da una parte, le Corti di Strasburgo e di Lussemburgo dall'altra parte. Soprattutto, però, se noi poggiamo, come hanno fatto le Sezioni Unite, se poggiamo sull'equazione la giurisdizione c'è solo se si è in giusto processo, si eleva a questione di difetto assoluto di giurisdizione tutto ciò che ridonda in violazione del giusto processo, qualunque cosa si intenda per giusto processo, cioè nelle varie declinazioni che ci sono offerte. E quindi ciò che è deducibile con ricorso alle Sezioni Unite sotto lo spettro del difetto assoluto di giurisdizione è la violazione di tutto ciò che è giusto processo. Ad esempio, e questa è l'esemplificazione fatta dalle Sezioni Unite, l'esercizio dell'azione da parte di un soggetto che non sia la giusta parte, oppure nei confronti di un soggetto che giusta parte non è. Oppure, ancora, la decadenza sostanziale dal diritto di azione, la carenza di legittimazione o di interesse ad agire intese nella logica di queste Sezioni Unite come condizioni dell'azione. Infatti, secondo Sezioni Unite 26019 del 2008, questi vizi possono essere fatti valere come ricorso per motivi inerenti alla giurisdizione, sub specie di difetto assoluto. Incontrano solo la barriera del giudicato interno, su di essi, e questo è importante, non può mai cadere il giudicato implicito, perché concernono non già una potestasi giudicandi comunque esistente, ma esistente ma oggetto delle regole del riparto, bensì la sussistenza in assoluto della giurisdizione. Quindi, la sentenza pronunciata in violazione delle regole sul contraddittorio o in carenza di potestasi giudicandi non connessa alle violazioni delle regole sul riparto tra giudice ordinario e giudice speciale, si presta a essere cassata dalle Sezioni Unite per difetto assoluto, il quale può essere rilevato d'ufficio in cassazione e qui l'articolo 37, così come riscritto dalle Sezioni Unite nel 2008 con le sentenze ricordate prima da Ilaria, non gioca evidentemente nessun ruolo. Ragionando in questi termini, c'è uno spazio di sopravvivenza dell'articolo 37 CPC così come scritto e non così come riscritto dalle Sezioni Unite del 2008. Quindi, il tutto passa attraverso il modo in cui intendo il difetto assoluto di giurisdizione. Se faccio l'aggancio al 111,1 Costituzione, allargo enormemente lo spettro del difetto assoluto. Qui, quindi, il difetto in questa lettura è il difetto assoluto alla massima latitudine. Si trasformano in vizi di difetto assoluto, vizi comunemente nella nostra tradizione, nel comune pensare, inclusi nella categoria degli errores iniudicando. Nel contempo, però, in questa lettura si riduce simmetricamente la portata del giudicato implicito sulla sussistenza della giurisdizione. E infatti, le Sezioni Unite lo considerano suscettibile di formarsi solo a fronte di una giurisdizione sicuramente esistente, ma di cui si dubita che spetti ad altro giudice. Quindi, solo laddove viene in considerazione un problema di riparto. Ecco, si tratta di vedere se questo modo di intendere il vizio di difetto assoluto di giurisdizione, che non può mai costituire oggetto di giudicato implicito, regga il cospetto del nostro articolo 9 CPA. In realtà, la norma, la nostra norma del Codice Civile, quella omologa oggi contenuta nel Codice della Giustizia Contabile, non fa altro che trasformare in ius scriptum ciò che è il diritto vivente delle Sezioni Unite. Ma sono le Sezioni Unite che ci dicono quale giudice delle questioni, insomma quale giudice ex articolo 111,8 Costituzione, a dire che il giudicato implicito non può cadere sul difetto assoluto di potestasi iudicandi. Quindi, voglio dire, il problema sollevato da Sezioni Unite 2626019 del 2008. È un problema molto serio, che rimane assolutamente aperto e al quale non rappresentano barriera preclusiva alla posizione del problema le nostre norme del Codice del Processo Amministrativo. Passiamo ai possibili perimetri dei campi di gioco. Quindi entriamo nel tema del riparto delle competenze giurisdizionali. Qui, come ricordava il Presidente Volpe, noi abbiamo un sistema costituzionale che poggia sulla tradizionale, ereditata proprio dalla genesi stessa della giustizia amministrativa, tecnica di riparto basato sulla consistenza delle situazioni giuridiche soggettive, con la tenuta del sistema del riparto affidato alla Sezioni Unite della Cassazione. Successivamente, però, il sistema del riparto basato sulle situazioni soggettive è entrato in crisi. È entrato in crisi per impatto della legge, è entrato in crisi per impatto delle sentenze della Corte Costituzionale 2004 e 2006. E adesso ci troviamo di fronte all'articolo 7 CPA, che francamente è una norma inutilmente complessa e ambigua, perché realizza la crasi tra il criterio tradizionale di riparto impegnato sulle situazioni giuridiche soggettive e il criterio che comunque abbiamo filtrato dalla Corte di Cassazione, che è quello del potere autoritativo, che non sono esattamente la stessa cosa. Ecco, i perimetri del campo di gioco, quindi, quando anche noi abbiamo la stella polare del giusto processo o la stella polare di Andrioli, continuano ad essere incerti. Il paradigma della, diciamo così, della non coincidenza tra le posizioni di Sezioni Unite e Consiglio di Stato sul tema della tutela dell'affidamento, sulla competenza giurisdizionale in tema di affidamento incolpevole, nei casi di cui ci parlava il Presidente Volpe, in realtà nasce dal fatto che il codice del processo amministrativo è imbrigliato, laddove avrebbe anche potuto non farlo, è imbrigliato la competenza risarcitoria, la potestasi di Candi in materia risarcitoria del giudice amministrativo alla protezione risarcitoria di interessi legittimi e diritti soggettivi in materia di giurisdizione esclusiva. Siccome è possibile leggere l'affidamento come interesse aglio rispetto al diritto soggettivo e all'interesse legittimo, come fa molta letteratura civilistica, a questo punto è ovvio che non c'è spazio per la giurisdizione del giudice amministrativo, perché il giudice amministrativo, il conditor del codice, del processo amministrativo, ha limitato la sua potestasi di Candi in materia risarcitoria solo agli interessi e ai diritti in materia di giurisdizione esclusiva. Rimane quindi il campo libero per dire che l'affidamento non ha i connotati dell'interesse legittimo o del diritto soggettivo e la Cassazione ovviamente sia propria del sindacato e dell'erogazione della potestasi di Candi quanto l'erogazione della tutela risarcitoria. Le incertezze ovviamente sul campo di gioco, su quale sia il corretto campo di gioco, sono la molla che hanno spinto la Sezione Unite a ampliare, a dilatare, a leggere diversamente, diciamo così, i vizi inerenti alla giurisdizione. Le tappe di questa vicenda evolutiva sono ben note. La violazione del giudicato interno è vizio sulla giurisdizione 2007, giudicato implicito sulla sussistenza della giurisdizione, Sezione Unite 2008. C'era anche una strada, c'era, una strada bella, affascinante, diciamo così, che era stata individuata dalle Sezioni Unite nel 2007, sempre su questa strada di semplificazione. Ed era quella della concentrazione delle tutele su domande, diciamo così, alternative e aspettanti alla giurisdizione del giudice diverso. era il caso famoso che era nato per il personale del Teatro San Carlo di Napoli. Sezione Unite 4636 del 2007, concentrazione delle tutele, che però, su domande appartenenti di per sé a giurisdizione di giudici diversi, a quanto mi consta però questa strada non è stata ulteriormente percorsa, è stata dalle Sezioni Unite. Soprattutto a noi risulta preclusa dalla formulazione dell'articolo 7 del CPA, che parla sì di concentrazione delle tutele davanti al giudice, ma soltanto quanto a domande che appartengono alla competenza del medesimo giudice. Mentre sarebbe stato interessante e forte se fertile, proprio in funzione del giusto processo e di dare risposta alla domanda di giustizia in senso sostanziale di Chiovendiana memoria, come dice Andrioli, ecco, vedere se era possibile seguire quella strada della concentrazione di tutele su domande appartenenti a giurisdizioni di plessi giurisdizionali diversi. Ecco, nella metamorfosi, diciamo così, dei vizi inerenti alla giurisdizione, quale, nel processo di metamorfosi, quale, inaugurata dalle Sezioni Unite a partire dagli anni 2007-2008, ecco, abbiamo molte, molte tappe, per esempio, e ricordiamo le sentenze che a noi amministrativisti, diciamo così, sono molto, molto care e sulla pregiudizia, in senso diverso, insomma, sulla pregiudiziale amministrativa, naturalmente, quando il giudice ordine alle Sezioni Unite ci dicono, guardate ragazzi, che quando violiamo e reinterpretiamo erroneamente le norme che ci attribuiscono potestasi iudicandi, lì si incorriamo in vizio inerente alla giurisdizione. Quindi è evidente la dilattazione dello spettro sul quale la dottrina, i commentatori hanno lanciato ampi strali, però è così, il diritto vivente è questo ed è un diritto vivente che è diretto, cioè dominato da una stella polare ben precisa. Il giusto processo, nelle sue varie accezioni, è, insomma, discutibile quanto si vuole, però è questo e io personalmente lo condivido. Il presupposto di questi ampliamenti, diciamo così, dell'ispettro dei vizi inerenti alla giurisdizione è il concetto di unitarietà della funzione giurisdizionale, affermata con forza da Corte Costituzionale 77 sulla traslazio, ma che appartiene al nostro patrimonio giuridico da sempre, si può dire. Ecco, e su questo, sull'inicità funzionale della giurisdizione, convergono sezioni unite, Consiglio di Stato, Corte Costituzionale, per cui si tratta di un presupposto, cioè di un qualcosa da assumere a postulato. Ecco, una delle tappe salienti nel processo delle sezioni unite di ampliamento dei vizi inerenti alla giurisdizione è quello che ha portato a leggere il giudicato implicito sulla giurisdizione, ora articolo 9 CPA. È una tappa saliente questa, perché si tratta di una regola sul rilievo e sul regime processuale, cioè si tratta di una regola anche sul rilievo e sul regime processuale della questione di giurisdizione. E leggere l'articolo 9 come regola sul regime processuale della questione conduce a risultati molto importanti. È in questa logica che io leggo sezioni unite 2.1.260.2016, in tema di autoeccezione sul difetto di giurisdizione da parte del ricorrente e soccombente nel merito. Qui noi abbiamo la nostra tradizione non antichissima, insomma il Consiglio di Stato ci dice da un po' di tempo che l'autoeccezione del ricorrente e soccombente integra abuso del processo. Ce lo ricordava prima Ilaria. Ma le sezioni unite ci spiegano che non esiste in caso di autoeccezione l'abuso del processo e che l'autoeccezione è di per sé sempre stata ritenuta ammissibile dall'orientamento prevalente, di gran lunga prevalente delle sezioni unite perché mira la sua formulazione a un grado inferiore di soccombenza con possibilità poi di traslazio. Ecco, io mi soffermo su questa sentenza delle sezioni unite perché la considero molto importante anche sotto profilo del metodo seguito per arrivare alla soluzione. Le sezioni unite danno atto che ci sono pronunce delle medesime sezioni unite che dicono che l'abuso, proprio con riferimento a ricorsi proposti contro sentenze del Consiglio di Stato, ci sono state sentenze di sezioni unite che hanno riconosciuto che la figura dell'abuso in tema del processo per autoeccezione poteva non essere peregrina. Ma l'hanno riconosciuto e l'hanno negata appunto nel caso deciso in relazione a peculiarità, difficoltà particolarmente rilevanti nella stregua del diritto sostanziale nell'individuare appunto il giudice munito di giurisdizione. Ma nel 2016 le sezioni unite dichiarano di voler ripensare l'intera squestione e dicono e fanno perno sul concetto di soccombenza. Perché? E questa è la razio decidendi, a mio parere. Perché spetta alle sezioni unite il sindacato sulle norme che regolano la deducibilità e il rilievo del difetto di giurisdizione. Qui a me sembra che in questa formula sia leggibile un ulteriore profilo di ampliamento da parte delle sezioni unite dello spettro del vizio che integra del vizio di giurisdizione. Integra vizio inerente alla giurisdizione non più soltanto come mi avevano detto in tema di pregiudiziale amministrativa l'eronea interpretazione da parte del giudice delle norme che le attribuiscono la potestà del segno di candi. Ma anche il sindacato sulle norme che regolano la deducibilità e il rilievo del difetto di giurisdizione. Che cosa diversa, sottimente diversa, ma oggettivamente diversa. Qui le sezioni unite mi dicono anche che la quest e le giurisdizioni se è la prima che il giudice si deve porre e che ci deve essere anticipata decisione endoprocessuale mentre la questione conosce solo le preclusioni da parte di chi ha la deduzione in appello da parte di chi ha dito quel giudice e non è risultato soccombente sulla giurisdizione. Insomma sulla necessità che si tratti di questione che deve sempre essere esaminata per prima possiamo dubitare, cioè sulla radicalità di questa affermazione, possiamo dubitare alla luce della giurisprudenza di sezione unite 2008 che ho ricordato, che ho evocato prima sulla determinazione del campo di gioco. Cioè sull'ampiezza del vizio di difetto assoluto di giurisdizione che corrispondentemente riduce lo spazio per la quest e le giurisdizioni slegate appunto all'interno del processo. Quindi Allora, le sezioni unite poi, sempre con questa sentenza, mi dicono anche che la soluzione adottata, IVI adottata, non è distatonica rispetto all'articolo 41, regolamento preventivo di giurisdizione che consente anche all'attore naturalmente di proporre il regolamento e questo perché il regolamento non è impugnazione e perché il regolamento mira una sentenza che statuendo sulla giurisdizione è efficace a pan processuale. Quindi abbiamo un favor per l'articolo 41, per il generalizzato di sistema, per l'articolo 41 del codice procedura civile. Questo sulla scia di una sentenza che a me sembra molto rilevante di sezioni unite del 2015. È la famosa sentenza che ha regolato la giurisdizione sul caso associazione La Libertà Margherita, c'era un problema, partito la Margherita, c'era un problema di riparto con la Corte dei Conti. Ecco, allora che regolamento lo possa fare anche l'attore è assolutamente pacifico. Lo può fare, dicono sezioni unite 2015, anche l'interventore adesivo dipendente. Rimane decidibile il regolamento anche in caso di estromissione dell'interventore adesivo che l'ha proposto dal processo e quindi anche in caso di perdita nel corso del processo della qualità di parte. Soprattutto è decidibile anche in caso di decisione definitiva di merito che sulle estromissioni di colui che aveva proposto il regolamento preventivo decide in modo incompatibile nel merito rispetto al problema di giurisdizione ed eventualmente afferma la giurisdizione, statuendo le aspettanze in capo al giudice davanti al quale appunto il processo è instaurato. Qui le sezioni unite mi dicono che, prendendo un loro orientamento, che la sentenza del giudice di merito che non ha sospeso il processo e che è andato avanti quindi pure in pendenza del regolamento preventivo, è una sentenza che rimane priva di effetti. È una sentenza che rimane priva di effetti. E questo naturalmente qualche problemino di sistema ce l'oppone perché comunque è inutile che stia a dirvi l'aspetto problematico di questa sentenza che rimane priva di effetti a fronte di una regolazione della giurisdizione che la riconosce aspettante in capo a un giudice diverso. Ecco. Un ultimo. Il tempo è pochissimo. Non voglio sottrare tempo alla sacra pausa caffè. Vorrei soffermarmi un secondo, richiamare la vostra attenzione un secondo, sempre in tema di giudicato interno, la cui violazione integra vizio inerente alla giurisdizione ormai nel diritto vivente. Però questo è un tema che è particolarmente in fermento, quello del giudicato interno. Perché è facile dire la violazione del giudicato interno integra vizio inerente alla giurisdizione, ma il problema è quando riconosco, quando leggo un giudicato interno. Allora, richiamo alla vostra attenzione una sentenza che a me è piaciuta molto delle sezioni unite del 2016, che è la 2.1.6.9.1, che non è su una... le sezioni unite non si sono pronunciate su una questione di giurisdizione, ma sono questioni di massima di particolare importanza. Ecco, qui il tema era questo. Allora, come sappiamo, la legge retroattiva incontra il limite del giudicato. Se non c'è giudicato è applicabile anche i processi, anche i giudizi in corso ed è deducibile come motivo di ricorso per cassazione. Perché? Perché il ricorso per cassazione non è funzionale a rilevare un errore del giudice, ma la conformità della sentenza all'ordinamento giuridico. Questo è quello che le sezioni unite ci vanno dicendo da anni. È vero che a fronte di una legge retroattiva è applicabile al processo in corso e di cui possa dedurre la violazione anche con motivo di ricorso in cassazione ex articolo 360. C'è il rischio di incostituzionalità, ma nella fattispecie all'esame delle sezioni unite la Corte Costituzionale aveva già escluso che incostituzionalità per violazione del giusto processo ci fosse. E quindi tanti saluti. Quindi il ius novum retroattivo intervenuto a giudizio di cassazione pendente va applicato dalla Cassazione perché iura novit curia. Con riferimento al limite del giudicato interno, sezioni unite dicono una cosa che a me è sembrata nuova o perlomeno è nuova nella nostra logica di amministrativisti, di processuali amministrativisti. Nel caso deciso c'era un giudicato su una questione e il relativo capo non era stato fatto oggetto di ricorso in cassazione. Quindi si trattava di stabilire se la decisione sulla questione in cassazione fosse preclusa dal giudicato interno formatosi su quella questione. Le norme, quindi dobbiamo capire se si è formato o meno il giudicato interno su quella questione. Le norme di riferimento sono il 392,2 codice di procedura civile, cioè l'impugnazione parziale in porta-quiescenza sulle parti della sentenza non impugnata e si deve trattare però di capi autonomi e indipendenti. E l'articolo 336, la riforma o la cassazione parziale, questa è una norma che piace molto al giudice amministrativo, la riforma o la cassazione parziale è effetto anche sulle parti della sentenza dipendenti dalla parte cassata o riformata. La norma è fondata sul principio logico per cui se cade la parte principale cade anche la parte conseguenziale. Quindi per vedere se c'è preclusione dal giudicato interno bisogna vedere se il giudicato interno cade su un capo indipendente o sul capo dipendente. Se la decisione non oggetto di ricorso in cassazione è capo dipendente, su di essa in caso di impugnazione principale non cade il giudicato interno. Quindi l'impugnazione della sola parte principale impedisce che si forme il giudicato sulle parti dipendenti anche non impugnate che rimangono fluide. Questo concetto di fluidità è di grande rilievo per molti aspetti che toccano noi, cioè della fluidità della questione dipendente. L'individuazione di questione dipendente è per noi di grande interesse e adesso chiudo con questo. Ci potrebbe aiutare a darci delle risposte o a cercare di darci delle risposte con riferimento alla ordinanza della sezione sesta 167 del 2017 che come sappiamo ha fatto rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia su alcune questioni nonostante dicendo c'è giudicato interno di adunanza plenaria ma io mando in corto di Cassazione per impedire il cosiddetto giudicato ab norme, decisum ab norme. Ecco, qui veramente chiudo. L'ordinanza 167 della sesta 2017 ci pone grandi problemi al cospetto della figura del giudicato interno e di sua possibile violazione. Ma se noi ragioniamo con la logica di sezione unita 2016 su capo dipendente eccetera eccetera, vediamo come è una logica che ci porta a dire che sezione sesta non poteva qualificare ciò su cui ha deciso l'adunanza plenaria come capo e quindi non oggetto di giudicato interno. In altre parole, a mio parere, il Consiglio di Stato ha usato della figura del giudicato interno la cui violazione ci porta in una determinata strada in un modo non appropriato. Per cui, quando noi, la conclusione mia è che quando noi processuale amministrativisti usiamo di determinati concetti che evocano problemi enormi di giurisdizione dovremo con un certo grado di umiltà andare a vedere che cosa ci dicono le sezioni unite a proposito di capi, di limiti del giudicato, perché la Cassazione lo sta riducendo il confine del giudicato interno, l'oggetto del giudicato interno la cui violazione integra vizio inerente alla giurisdizione. Non ho, vabbè, poi avrei altre cose da dire, ma insomma la pausa caffè serve. Grazie, grazie veramente alla professoressa Cacciavillani per questa relazione così ricca di stimoli e di nodi problematici che penso a questo punto abbiano sollecitato la vostra attenzione e quindi la necessità di interventi da parte vostra. C'è tempo cinque minuti ancora prima della pausa. Caffè, chi desidera intervenire sui temi delle relazioni di stamani? Caffè prevale? Prego, allora il Presidente Patroni Griffi, anche i relatori successivi. Da qua si sente meglio. Giusto perché non ce n'erano altri, quindi... No, sì, il caffè però tanto dura poco, la cosa mia. Mi richiamo la sentenza che conosciamo bene della Cassazione sull'autoeccezione. Allora, mi richiamo la sentenza della Cassazione sull'autoeccezione. No, ma forse qua... Si sente ora? Sì, direi di sì. Allora... Cosa che non è piacere, regola? No, vabbè. Allora, io credo che a ragionare in maniera asettica quella fosse un'ipotesi tipica di error in procedendo e non un motivo inerente alla giurisdizione perché la riprova di questo deriva in realtà proprio dalla soluzione adottata dalla Cassazione che falleva, a mio avviso giustamente, sa bene che questa era anche l'idea che era affiorata nella relazione preparatoria del nostro ufficio studi, falleva sul concetto di soccombenza anziché sull'abuso del processo che oggettivamente era un po' campato in aria. Però detto questo, la legittimazione e l'impugnazione, l'individuazione in relazione alla soccombenza è una tipica ipotesi di error in procedendo che se venisse esteso, se si venisse a ricomprendere il difetto assoluto di giurisdizione, temo che ogni volta che si neghi legittimazione o interesse dovremmo finire in Cassazione e penso che loro si possano anche suicidare a quel punto perché se ogni questione di interesse ad agire o di legittimazione ad agire finisse in Cassazione evidentemente morirebbero. Detto questo, credo che però la Cassazione bene abbia fatto a pronunciarsi perché ha risolto un problema comune alle due giurisdizioni che non potevamo che risolvere unitariamente perché altrimenti il sistema non tiene. Quindi bene ha fatto. L'unica cosa che io direi su questo però, più in generale, probabilmente noi dobbiamo avere la capacità di discernere tra l'esistenza, cioè tra la questione di giurisdizione in senso stretto quando parliamo di difetto assoluto, cioè l'inesistenza di un potere di giudicare erroneamente che il Consiglio di Stato si sia dato o che erroneamente abbia negato. Questo però dovrebbe attenere proprio al presupposto, all'esistenza della norma perché, ripeto, se estendiamo la nozione in positivo e negativo a quelle che i processualcivilisti definirebbero più che presupposti processuali in senso stretto delle condizioni ancorché preliminari dell'azione, temo che si estenderebbe a dismisura a ogni fattispecie per esempio di difetto di legittimazione ritenuto o non ritenuto, con la conseguenza che quindi, se io ritengo che so, un'associazione ambientalista non ha legittimazione, a questo punto dovrei dire che erroneamente ho declinato la giurisdizione, erroneamente forse declinato o ritenuto insussistente la legittimazione. Questa era solo l'unica mia osservazione che mi veniva su questa questione molto delicata del rapporto tra difetto assoluto di giurisdizione ed errore in procedendo. Buongiorno a tutti, allora io sono un avvocato, non sono un magistrato, quindi volevo guardare un po' dall'aspetto dell'avvocato la questione della giurisdizione. Il problema che mi ponevo, leggevo, l'avvocato Michele Florimo, leggevo una sentenza della Cassazione che poi ho riportato anche in un atto, in appello, su una questione di riparto di giurisdizione in materia di pubblico di impiego privatizzato. E la questione, io non so se è stata trattata perché sono... Sì, no, la questione era questa sulla rilevabilità o deducibilità della questione di giurisdizione in Cassazione quando la stessa non è stata oggetto di motivo di appello da parte di una delle parti costituite. Se era possibile, perché leggevo che c'era una Cassazione a sezione unite che impediva proprio questo in virtù del principio della ragionevole durata del processo, se è possibile, perché l'articolo 37 mi sembra parla chiaro, la questione di giurisdizione deducibile o rilevabile d'ufficio in ogni Stato è il grado del procedimento. C'è una Cassazione a sezione unite che ha perimetrato un po' la possibilità di rilevare o eccepire il difetto di giurisdizione. Una delle nostre relazioni di stamani, questa, a partire dalla sentenza 24.883 del 2008, l'orientamento è chiaro ed è stato recepito dall'articolo 9 del codice del processo amministrativo, la questione è chiusa, si è formata una preclusione, un giudicato interno implicito. Grazie. Ci sono altre domande, altri interventi? Lucia Tria. Buongiorno, Lucia Tria Cassazione. Volevo dire che abbiamo, insomma, anche in un'ottica europea, i risultati della nostra giurisdizione, sia ordinaria che amministrativa, sono nella sostanza relativamente buoni, a parte la grande lentezza, però quello che emerge sicuramente è la complicatezza enorme del nostro sistema, che non viene minimamente compreso, anche nei suoi risultati positivi dall'esterno. Quindi io penso che, riagganciandomi a quello che diceva il Presidente Volpe, che poi in fondo si tratta di un problema pratico, ha detto così, allora dobbiamo forse entrare in un'ottica di maggiore semplificazione, ma proprio come approccio. Ecco, non tanto, perché abbiamo tanti strumenti, dobbiamo cercare, perché in fondo quella sentenza delle sezioni unite del 2008 è una sentenza che aveva un'ottica semplificatrice, ma semplificatrice non banalizzatrice, né diciamo di strame dei diritti, per carità, significa solo che non si può sempre ricominciare a discutere di tutto, sempre, perché poi in fondo, ecco, se voi avete quattro gradi di giudizio, noi addirittura ne abbiamo potenzialmente cinque, insomma, e non si finisce mai, perché poi dalla Cassazione si può rinviare e si torna indietro, e poi si torna indietro e poi si riva avanti. Delle volte ci sono tre, quattro rinvii. Insomma, è una roba veramente che non credo che poi nella sostanza tuteli realmente i diritti. Rende il nostro ordinamento poco comprensibile, quindi forse sarebbe molto bello avere occasioni come queste, nelle quali ci si confronta, per cercare di parlare un linguaggio comune e di vedere le cose nello stesso modo, sia pure da prospettive diverse. Grazie. Se non ci sono altre domande, darei la parola ai relatori per rispondere a questi interventi, a queste sollecitazioni. Ecco, io volevo rispetto all'intervento del Presidente Patroni Griffi dire che in effetti nella nostra giurisprudenza, dico giurisprudenza delle sezioni unite, è netta la distinzione tra errores in procedendo, non sindacabili ai sensi dell'articolo 111 della Costituzione rispetto alle pronunce del Consiglio di Stato e motivi inerenti alla giurisdizione. Però, per quanto riguarda la nozione e l'ambito dei motivi inerenti alla giurisdizione, si rientrano in questa nozione anche le regole dinamiche relative alla rilevabilità e alla deducibilità del vizio. All'interno, quindi, della più ampia categoria degli errores in procedendo, si è soliti estrarre queste regole che sono regole processuali ma che attengono al modo in cui la questione di giurisdizione riesce ad emergere. E questo probabilmente anche storicamente per evitare che, ad esempio, prima della riforma del processo amministrativo, ci fossero nei due plessi giurisdizionali regole di rilevabilità del vizio di giurisdizione diverse da ordinamento a ordinamento. e quindi per estendere la portata del 37 codice di procedura civile come riletto dalle sezioni unite, anche all'interno del plesso della giurisdizione amministrativa. E' una distinzione, tra l'altro, che è stata, che deriva anche da altre pronunce delle sezioni unite con riguardo, ad esempio, al regolamento di competenza. Siamo nell'ambito tutto interno alla giurisdizione ma la Corte di Cassazione, da tempo, ritiene che con il regolamento di competenza siano deducibili non soltanto le questioni di riparto tra giudici ordinari, ma anche le questioni attinenti al modo in cui la questione di competenza è stata eccepita o rilevata dal giurisdizio. Darei la parola per un ultimo giro di interventi. Prendo spunto dall'intervento della Consigliere Triana che ha detto giustamente che quella sentenza del 2008 era una sentenza che aveva un suo fondamento e una sua base per dire che il ragionamento che dobbiamo fare è semplicemente fare attenzione a un uso troppo ampio del giudicato implicito. Poi per il resto le soluzioni a cui quella sentenza è arrivata col correttivo delle questioni processuali fondanti è sicuramente un ottimo risultato e poi oltretutto ormai è codificato altrove, quindi è inutile ragionarne ancora. Però proprio perché di giudicato implicito si parla un po' troppo bisogna fare attenzione e avere ben chiaro che cosa vuol dire doppio oggetto del processo. Non è un riferimento a voi visto che quella sentenza, quella sull'auto eccezione, un riferimento al giudicato implicito lo fa, però si ferma prima sulla parte della socconvenza e quella è certamente apprezzabile. Proprio perché però avete questa logica di semplificazione che è giusto che ci sia, allora dovreste ripensare anche la lettura dell'articolo 41 e l'impossibilità di fare il regolamento preventivo di giurisdizione quando si è già intervenuta una decisione sulla giurisdizione, perché applicando l'articolo 41 in modo più ampio semplifichereste il tutto e accorcereste i tempi. Mentre in questa maniera si finisce per avere un sacco di gradi di giudizio perché non si passa attraverso la scorciatoia, chiamiamola così, di regolamento preventivo. A questo punto, almeno sull'articolo 41, un'ulteriore riflessione si potrebbe fare. Allora, con riferimento ai rilievi del Presidente Patroni Griffi, senz'altro è vero, noi vi stiamo vivendo la tragedia della difficile linea di confine tra errori si procedendo, errori si giudicando e vizi inerenti alla giurisdizione. Però che il vizio inerente alla giurisdizione denoti una potente visa attrattiva è fuori discussione, cioè fa parte del nostro diritto vivente ed è quello, secondo me, che è più interessante da guardare. Non c'è dubbio però che le sezioni unite, che pure non hanno su tutti i temi un orientamento monolitico e compatto. Però stanno riducendo, l'esempio che vi ho fatto prima, il richiamo che vi ho fatto prima alla sentenza del 2016, stanno mettendo in discussione, molto cautamente, molto così, alcuni pilastri su cui si basa la loro dilatazione dei vizi inerenti alla giurisdizione. Per esempio, vizio inerente alla giurisdizione è violazione di giudicato interno. Benissimo. Però adesso mi stanno limando... Il giudicato interno sulla giurisdizione? Certo. Sì, sulla giurisdizione, ma... Però potenzialmente potrebbe anche essere esteso la violazione della giudicata... cioè il vizio inerente alla giurisdizione come violazione di un giudicato interno. Il ragionamento e l'articolazione su domanda principale, domanda di capodipendente, riduce abbastanza questo e ci conduce al tema direttamente toccato dalla Sesta con la sua ordinanza di rimessione di gennaio 2017 alla Corte di Giustizia. che rimette un po' in discussione alcuni temi che noi abbiamo preso dalla giurisprudenza delle sezioni unite e nel nostro terreno della giustizia amministrativa li applichiamo un po' a modo nostro. Ecco, il che non è se... Certo, l'autonomia della giurisdizione va benissimo. Se abbiamo una nostra nomofilachia, però qualche volta guardare anche in un orto nomofilatico diverso potrebbe non essere del tutto sbagliato. Grazie ancora, ci sono 20 minuti di break e poi riprendiamo con la seconda parte delle relazioni. Grazie. Grazie. Grazie.